Questa è la Korean Sith No Ragazzi non state troppo così Non state troppo in questa posizione Col piede sotto qui Io Per colpa di questa posizione Ho il piede pieno di lividi Mi si è tipo anche seccata la pelle Del piede In alcune parti Non lo fate ragazzi Non lo fate E' molto pericolosa Per la vostra salute Della vostra pelle del piede